buonasera a tutti siamo alla fine di maggio e da qui in poi possiamo dire che dovrebbe iniziare l'estate ma inizia diciamo il mese più bello perché praticamente giugno è legato comunque come mese alla fine dell'anno scolastico e quindi siamo tutti contenti che siamo a casa e quindi è anche il mese delle prime vacanze e delle prime vere esposizioni al sole chissà come mai all'inizio della stagione abbiamo tutti quella frenesia di doverci abbronzare prendere colore in anticipo in modo che poi siamo belli e naturali per tutta l'estate soprattutto noi donne che non vediamo l'ora di sfoggiare le nostre belle gambe abbronzate allora è importante però abbronzarsi in sicurezza quindi possiamo utilizzare degli integratori naturali a composizione completamente naturale che abbiano delle sostanze che fanno aumentare la produzione della nostra melanina sono integratori per esempio con una composizione a base di beta carotene che è quello più conosciuto il beta carotene è un prodotto che può portare ad aumentare la produzione della mia melanina aumentando la produzione di melanina io prendo un colore naturale e soprattutto mi rende la pelle più resistente allo stress delle radiazioni solari spesso e volentieri questi integratori sono ricchi oltre che di beta carotene anche di licopene che è una sostanza simile come precursore di vitamina A per la produzione di melanina e di vitamina E che sono praticamente le sostanze che vanno a nutrire e a preservare la mia pelle per le radiazioni solari questo ci permette di prendere colore e tenere la pelle comunque più elastica e più morbida potete anche pensare a un discorso sugli alimenti perché l'integratore è considerato pur essendo un prodotto naturale vediamolo come se fosse un prodotto farmacologico mentre l'alimento è completamente naturale ma da solo lavora poco l'ideale sarebbe proprio fare un bel lavoro complementare mentre utilizzo l'integratore avere un abbinamento come alimentazione integrata con prodotti di frutta e verdura ricchi di beta carotene e licopene in questa maniera andremmo a sommare le due azioni e ad avere un effetto completo e continuativo allora molto facile ricordarsi dove troviamo il beta carotene perché lo troviamo nella frutta di colore arancio nella verdura di colore arancio quindi melone pesca zucca carote e sono praticamente alla portata di tutti però il beta carotene lo troviamo anche in verdura verde tipo i broccoli gli spinaci e le alghe che sono forse un po' meno conosciute ma sono molto ricche di questa vitamina quindi potete utilizzarle come alimenti da consumare quotidianamente ricordatevi che è una vitamina liposolubile quindi il veicolo deve essere oleoso per cui quando utilizzate questi alimenti utilizzate sempre un filo d'olio extravergine d'oliva che fa del veicolo e aumenta la nostra produzione di melanina un alimento invece ricco di licopene sono per esempio i pomodori maturi ne hanno un'alta concentrazione così come vitamina c e vitamina e e ci possono aiutare proprio per la produzione della melanina fatevi consigliare dal vostro farmacista o medico di fiducia l'integratore poi appropriato per la vostra carnagione arrivederci e buona serata